Il governo promuove molto questa generatività. Il fanese Gabriele Giuliani è tra i primi dieci al mondo, ottavo per la precisione, in una disciplina del taekwondo. L'eccezionale risultato Giuliani, uno dei fondatori dell'ASD Taekwondo Fano, lo ha conseguito durante i mondiali di Hanma Dang che si sono disputati in Corea dal 26 al 30 luglio scorso. Giuliani è stato tra i pionieri in zona del taekwondo, iniziando a praticarlo già negli anni 70 in pieno boom. Delle Alte Marziali, affascinato come molti anche dal filone cinematografico di quegli anni e poi aprendo diverse scuole in tutta la provincia, fino ad arrivare lui stesso ai giorni nostri ad essere una cintura nera ottavo d'anno. Un bel risultato, questa gara che si chiama Oburtequando Hanma Dang, voglio specificare che è un torneo particolare che è rivolto a atleti di tutto il mondo e riguarda solamente varie tecniche, tra le cui le forme, cui partecipo io, poi le rotture con il taglio della mano, con il pugno, salto in alto, salto in lungo, rompendo le tavolette, insomma una serie di prove particolari. Partecipano circa 5.000 atleti da tutto il mondo, è diventata una gara straordinaria, qualificarmi nei primi 10 è stato il miglior risultato di tutti i tempi. Le arti marziali, prima di ogni cosa, sono una scuola di vita, oltre che di sport, dove il rispetto per l'avversario, la disciplina, l'equilibrio e l'autocontrollo accompagneranno l'atleta in tutta la sua vita. Sì perché queste discipline non hanno limiti d'età. Le arti marziali non sono violente, aiutano, ci insegnano l'autocontrollo. Tutti abbiamo bisogno, bene o male, di sfogarci un po'. Il fisico ce lo chiede, la mente ce lo chiede, lo stress è una delle cause principali oggi del malessere. Quindi le arti marziali sono un rimedio, oserei dire, essenziale per la vita moderna. Molti pensano che praticare le arti marziali sia una cosa riservata ai giovani, ai ragazzi, eccetera. È sbagliato questo perché tutti possono praticare il taekwondo. Dobbiamo imparare tutti noi a essere protagonisti nello sport, non spettatori.